L'idea ovviamente è anche la bontà del progetto, io per quest'idea mi devo complimentare assolutamente con l'associazione Dialoghi, con l'associazione Archimede e con la società EDI. Sicuramente nel momento in cui mi è stato sottoposto questo progetto ho deciso subito, ne ho accolto i contenuti, ho deciso subito di appoggiarlo e quindi di dare, offrire il mio contributo fattivo per la promozione e per la diffusione. Proprio perché io sono convinta che sia importantissimo indirizzare i giovani verso dei valori che sono valori veri e duraturi per cui potranno guardare con ottimismo al futuro, ma soprattutto perché sono convinta che sia importantissimo far capire loro il senso di identità e di appartenenza al proprio territorio. E credo anche che soltanto la conoscenza, una conoscenza diretta del nostro territorio e anche la presa di coscienza di quelli che sono i suoi cambiamenti, lo studio delle radici e delle tradizioni locali potrà creare una comunità consapevole e anche rendere i nostri ragazzi dei cittadini migliori, dei cittadini più consapevoli. Quindi è importantissimo il senso di appartenenza al proprio territorio. Grazie.